dalla chiesa interviene sulla questione e purazioni in casa rai nella nota attacca gli intellettuali di sinistra e li accusa di vittimismo con l'insediamento di un nuovo governo il cambio dei vertici rai e l'addio di alcuni storici conduttori su tutti fabio fazio e lucia annunziata in molti avevano avanzato la propria preoccupazione sul pluralismo del servizio pubblico evidentemente considerato a rischio a frenare le voci tuttavia ci ha pensato rita dalla chiesa membro della commissione di vigilanza rai per forza italia attraverso una nota l'ex volto di forum va quindi controcorrente comprensibile d'altra parte visto il suo schieramento politico e non si accoda a coloro che ritengono che l'addio di fazio sia stato preparato dalla nuova governance della tv di stato proprio da quest'ultima è arrivata la critica a chi sostiene che il governo e la direzione rai stiano facendo piazza pulita all'interno del servizio pubblico fuori tutti e dentro gli amici degli amici niente di più vergognosamente falso ha dichiarato tentando di scacciare le critiche giunte nell'ultimo periodo con un palinsesto rai prossimo ad importanti novità e volti noti si dice a rischio per la prossima stagione rita dalla chiesa si è scagliata nello specifico contro gli intellettuali di sinistra i primi a detta sua a portare avanti l'idea di un'epurazione interna della rai stanno facendo tutto da soli i fazio le annunziata ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal centrodestra ha spiegato nella nota convinta dell'eccessivo vittimismo portato avanti dai suddetti intellettuali